Ciao a tutti ragazzi, sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video della vanilla insieme E perché c'è la mia finestra rotta? Questo è stato bella faccia, sicuramente, ne sono sicuro, non li vado a parlare io Tu l'ho tornato? Eccomi Sei tornato? Ehi, ce l'ho tornato, ti sono mancato? Ma perché? Dov'eri? Ero a fare un corso di cucina Ma come sei andato a fare un corso? Ma quando? Scusa, io non ti ho visto lasciare la vanilla Ma sono andato via una settimana Una settimana? Beh ragazzi, che volete? Quando bella faccia se ne va c'è la pace e la tranquillità più assoluta qua Quindi non me ne sono accorto Cosa sei andato a fare, hai detto? Ho fatto un corso di cucina, l'ho vinto con questo dolce, la cre brulee, vuoi se zerla? Non ha un aspetto molto invitante Anni e anni di allenamento Senti, ascolta, conta il gusto, l'aspetto, quindi mancia Vabbè, conta il gusto, però è verde Perché è verde? Cosa c'è? Ci sono le erbette di campo, ci sono i pistacchi Sì, i pistacchi E perché è viola? È viola perché ha i peperoni Sì, sì, sì Peperoni viola, ma che cavolo E le melanzane, le melanzane, scusa, scusa Senti, per la faccia tieni No, 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 no Guarda, io mi mangio le mie cotolette, è buonissima No, insisto, devi manzarla Ho vinto, ti giuro, ho vinto il MasterChef di Minecraft, così Ok, va bene, la mangio, eh Manzala, sì, vai Puoi fammi sapere, eh Ragazzi, speriamo non sia avvelenata Ha detto di aver vinto il corso di cucina, quindi forse hai imparato a cucinare, finalmente Ok Che cosa è successo? Oh A faccia Kendall No, aspetta Kendall, Kendall, tutto ok? Oh, tutto ok Mamma mia, mamma mia Ma si è fatta notte nel frattempo Tutto ok? Che cosa è successo? Eh? Bella Stai bene? Bella faccia T'è piassuta? Vuoi dire che t'è piassuta? No, se non farò più Cosa sta succedendo? Eh? Cosa sta succedendo, bella faccia? In che senso? Hai uno specchio? C'è uno specchio qua da qualche parte? Eh, sì, è qua, vieni Guardati, guardate lo specchio Non vedo nulla di particolare Cos'è che c'è? Ah no, guardati le braccia, guardati Oh, mamma mia, che schifo, che cos'è? Togliti l'armatura, bella faccia Togliti l'armatura Ma devo togliere? Togliti l'armatura Togliti l'armatura Togliti l'armatura Ma che cosa? Ma non è successo Che cosa è successo? Dio Oh mio Dio Ma cosa è successo? C'è le allucinazioni C'è le allucinazioni Devo andare a dormire, devo andare a dormire Sicuramente è un brutto sogno Sì, sì, sì Ma dove stai andando? Ma non ho mai detto Siete piaciuto il dolce? Mamma mia, mamma mia Buonanotte Oh, mamma mia Che paura, che paura È un incubo, è un incubo Kendall, svegliati Kendall, svegliati Kendall, svegliati Svegliati Molto meglio Ah! Ma cosa è successo? Cosa? Cosa è successo? Buongiorno, caro vicino Oh mio Dio Oh mio Dio Sono diventato bella faccia Buongiorno, ha detto C'è nessuno? C'è nessuno? Non è al lavoro Cosa è successo ai nostri corpi? Bella faccia Ma che cavolo Mi hai rubato il corpo Maledetto Sì, e tu hai rubato il mio Non vedi che c'hai il mio corpo No, voglio uscire di qui Puzza un sacco questo corpo Che puzza Ok, allora C'è soltanto una spiegazione Ho la tua zuppa Era marcia Non ridere Sei molto elegante così Non ci posso credere Sembra che sto andando A un colloquio di lavoro Ma Allora Ho la tua zuppa Era marcia E quindi tipo Era avvelenata No, no, no Impossibile Sei sicuro? Non lo so Che vuoi dire? Non lo sai? Hai detto che avevi vinto Il corso di cucina Forse ti avrai detto T'ho detto una piccola buzia Ma come hai detto Una buzia? Quindi non hai vinto Il corso di cucina No, volevo sorprenderti Ho preso dell'erbaccia Un po' lì Un po' l'alio Ho messo lì Ho frullato Oh mio Dio Oh mio Dio Ma cosa mi hai fatto bere? Aspetta Allora, no, no, no Calma Bisogna utilizzare il cervello Bisogna utilizzare il cervello Del resto la testa è ancora mia Quindi saprò utilizzare Allora siamo persi Siamo persi Non c'è più nulla da fare Ma silenzio Bella faccia Sto pensando Sto pensando Ok, ci deve essere un rimedio Giusto? Per tutto Per tutto c'è un rimedio Quindi il rimedio potrebbe essere Mangiarne un'altra Valla a preparare Ma che cosa ne so? Ci avevo messo delle robe a caso Beh, rimetti le stesse robe a caso di prima Andiamo a preparare un'altra di quelle schifezze che hai fatto Sì, perché io voglio uscire da sto corpo Che non mi piace per niente Eh, non ti piace Ti piacerebbe avere il mio corpo Potrei far del male a questo corpo Sta fermo Aia Ma sei pazzo? Sta fermo Mi fai male Vediamo Prepariamo un'altra zuppettina Preparo una zuppa Sì, sì, sì Che cosa? Quali sono gli ingredienti? Dimmi, dimmi Allora, gli ingredienti erano Una lingua di rana Lingua di rana? Ok, giusto Come? Lingua di rana? Mi hai fatto mangiare la lingua di rana Per la pace Silenzio Vuoi che ricreo la pozione? Ok Poi che cosa ci avevo messo? Ci avevo messo ovviamente delle erbette di campo Quelle sì Certo Le erbette di campo Hai presente le ali di mosca? Sì, quelle Ah, ma che schifo Ok, poi avevo frullato Avevo aggiunto un dente di leone Però non è il fiore È proprio un dente marzo di leone Ma dove cavolo non hai trovato un dente di leone? Oh, eccola Ce l'hai fatta? Eh, vediamo Ok, mi sa che la dobbiamo bere entrambi No, come? Eh sì Entrambi, ok Eh beh, se no non funziona Io ne bevo un po' Tu ne bevi un po' Ok, vai Inizia tu, inizia tu Ok, inizio io, eh Vai, vai, bevilo un po' Bevi un po' te Vediamo Ma com'era di gusto? C'era un pelo dentro Ma una bella faccia non l'hai bevuta Ancora tutta qua Ma come no? Un pochettino Non è Senti, non ti do il gelato se non la bevi tutta Aspetta, dai, ne rifaccio un'altra Allora Ok Ok, ci ho messo il frullato nel mio Adesso ho le sembianze di pella faccia Ma non è possibile Ma stai zitto che sei bellissimo Bella faccia Sei sicuro che questo metodo funziona? Sì, sì Ma che cosa? No, è il tuo metodo Io cosa ne so Ma che vuol dire il mio Ah, è vero, è una mia idea Ok, vabbè Pronto, tappa il naso 3, 2, 1 1 No No, non è successo niente No Non è cambiato proprio niente Ma forse Abbiamo mangiato un'altra delle tue schifezze senza motivo Puzzi ancora di più, mi so Eh, sì, sì Tu invece sei super odoroso Ma smettila, dai Ascolta, ci serve un altro metodo Bella faccia Lo so Aspetta, aspetta, ce l'ho qui dentro Guarda Il latte Potremmo utilizzare il latte fresco È vero Il latte elimina tutti quanti gli effetti di Minecraft Sicuramente servirà, eh Sei pronto? Ok, io sono pronto Tu sei pronto? Sì, sono pronto Tu sei pronto? Io sono pronto Tu? Io sono pronto Tu sei pronto? Io sì Ma tu sei pronto? Io sono pronto Sì, tu sei pronto Ok Cin 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 Sentiamo Oh, aspetta Ti senti diverso? No, non è successo niente Fatti vedere un attimo Cosa è successo? No, sei uguale a prima Cosa è una faccia C'è una faccia tremenda Ma ho un corpo veramente bellissimo Ma stai stitto E anche tu Io pure Senti, dobbiamo trovare un'altra soluzione Quindi facciamo una cosa Restati in casa adesso per qualche ora E pensa a un'idea Ah io No, ehi, ehi No Cavolo, ragazzi Allora, bisogna pensare Bisogna pensare Sì, sì, sì Quindi bella faccia mi ha trasformato in uno schifo umano Mi ha dato il suo corpo E adesso dobbiamo cercare di ritornare come eravamo prima Cosa potrebbe annullare qualsiasi effetto e qualsiasi maledizione? Pensa, Kendall Oh Oh, forse ho trovato Sì Forse ho proprio trovato la soluzione Non è il latte Non è il ribere la sua schifezza, la sua brodaglia Ma La morte Mi sa che io e Bella Faccia Dovremmo ucciderci Magari non a vicenda Però ci dobbiamo uccidere decisamente Per ritornare nei nostri corpi È semplice Ehi Bella Faccia Dove sei? Vendici, vendici corpo Vendici corpo di tigre Vendici, vendici Non ci provare Senti, tratta bene il mio corpo Hai capito Bella Faccia? Non ci provare a vendere il mio corpo Ascolta Fuori Tanto è un gioco, Bella Faccia Ma non ti fa male Dai, ascoltami Sì, la porto in lì a destra, ok Vendici corpo, vendici Vendici Bella Faccia È una maledizione Quindi è l'unico modo Dobbiamo trovare un modo di ammazzarci a vicenda Se vuoi Io posso offrire un colpo di spada in testa Cioè No, 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 no Che cosa? Sei sicuro? Ma buttati te da un dirupo Io me ne sto qui Ok, lo dobbiamo fare insieme Vieni, seguimi Ma che cosa? Sì, 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 sì Per forza Bella Faccia Per forza Prendi dei blocchi Dobbiamo trovare il modo Ho pure un'idea migliore Vieni Oggi è il mio giorno fortunato Allora, posa tutto quello che hai Nella cesta Devi essere completamente nudo Sì E i miei 19 livelli Che me li ridà? Eh, li rifacciamo un'altra volta Bella Faccia, ascolta I livelli non sono importanti Ma guardate Per colpa tua Colpa mia? Fino a prova contraria Tu mi hai fatto mangiare quella schifezza Ma che cosa dici? Non è vero niente Era la mia ricetta Ho detto andiamo Allora, dobbiamo saltare entrambi Contemporaneamente su questo fuoco E iniziare a morire Bruciando Vieni Cioè, vabbè Una morte più dolorosa Hai un'altra idea? Vuoi che soffochiamo sott'acqua Cioè, io non ho capito Ma secondo me soffocare è peggio Comunque, ok, vabbè No, 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 no Facciamo così Te soffochi e io vado in giro No Cioè, però ci dobbiamo buttare E tre Due Uno Vai Via Ho detto tre Due Uno Via Vai Bella faccia Ok, dai Stavolta lo faccio veramente Ok Tre Due Uno Via Via Ok, via 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 Ok, dobbiamo morire Dobbiamo morire Funzionerà, bella faccia Funzionerà Ritorneremo nei nostri No, no, no Sì che funziona Funziona Aio, 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 aio Aio, aio, aio Aio, aio Ah, già mi sento molto meglio Sì, sì, sì Ho un corpo decisamente più atletico Riesco a correre più velocemente A fare più salti Bella faccia Credo di essere tornato all'interno del mio corpo E tu? Sì È decisamente tornato all'interno del suo stesso corpo Oh Siamo tornati normali Sei tornato tu e io sono tornato io No, non si posso credere Adesso è arrivato il momento perfetto Per l'ultima mia rizzetta super segreta La Prubla Grimli Sì, certo La mangi tu, bella faccia Io non ho intenzione di toccare mai più il tuo cibo Vieni qui un attimo No, no, no Devi assazzarla Ragazzi, mi raccomando Lasciate un bel mi piace Se vi è piaciuto questo video della vanilla insieme Non mangiate assolutamente il cibo Volete assazzarla ragazzi? No, no, no Non lo fa Senti, lascia stare i miei fan per favore Dal vostro Kendall e bella faccia è tutto E noi ci vediamo domani con un prossimo video Ciao